L'acciaio nel mondo decarbonizzato servirà ancora, bisognerà produrlo con tecnologie pulite. Taranto per quello che ha subito in questi ultimi decenni in termini di impatto ambientale e impatto sanitario merita l'acciaieria più innovativa a livello internazionale. Allora se noi vogliamo pensare a un futuro duraturo per lo stabilimento siderurgico di Taranto non possiamo che pensare ad una acciaieria che utilizza l'innovazione utilizza l'elettricità prodotta da rinnovabili all'interno dei forni elettrici e produce acciaio utilizzando anche l'idrogeno verde prodotto da quegli impianti rinnovabili che fra pochi anni saranno per certi versi molto più efficienti e anche molto diversi rispetto a quelli che abbiamo conosciuto fino ad oggi perché l'innovazione tecnologica nelle produzioni rinnovabili sta andando avanti con passi da gigante.